Carissimi, finalmente uscì il film dedicato alla superruina più forte del Marvel Stematic Universe E sinceramente ragazzi, dire forte è quasi un'offesa perché è decisamente qualcosa di più, un livello superiore Decisamente qualcosa di più che forte Mannaggia ragazzi, ve lo dio dal profondo del mio cuore Mi dispiacerà per Thanos perché so sicuro che la capitana li farà due melanzane grossi così Povero Thanos, madonna ragazzi Ma a parte questo ragazzuoli, Captain Marvel, mannaggia ragazzi Che film, veramente un bel film, che è apprezzato, divertente, che intrattiene, godibile, leggero Proprio una transizione tra il film Avengers Infinity War e Avengers Endgame Giusto per farsi un'idea di che cosa possa fare questa superruina In parole povere, spaccare le melanzane a tutti, ma rimma, ma iala Ma comunque, dopo due ore di puro divertimento, un fantastico tributo ad un fantastico uomo Eccoci di fronte alle due scene dopo i titoli di Oda Che ora andremo ad analizzare Ma prima, sigla! Perché sono un fenomeno e quindi, sigla! Ciao ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti o bentornati sul canale TELARISMAN 5 Signore e signori, mi raccomando cari Perché dovete iscrivervi al canale e attivare la campanellina Se ancora non l'avete fatto Spollisciare, commentare, condividere il video E dove aver fatto queste semplicissime cose gratis Direi che possiamo iniziare ad analizzare Le varie scene dopo i titoli di Oda del film Captain Marvel E quindi, vai! La prima show dopo i titoli di Oda è banalmente una clip presa dal film Avengers 4 Dove vediamo alcuni degli eroi sopravvissuti allo schiocco della nostra melanzana preferita Thanos Che si stanno interrogando sull'importanza del cerca persone di Fury Anche lui purtroppo scomparso, polverizzato Dopo lo schiocco di dita del titano pazzo Comunque ragazzuoli Ad un certo punto il cerca persone smette di funzionare E voilà! Ecco apparire la capitana Che chiede dove si trovasse Fury Allora Shitty La prima scena dopo i titoli di Oda L'ho trovata abbastanza interessante Perché ci permette di rispondere definitivamente ad alcune domande E allora Andando ad analizzare questa scena Cosa non ho potuto non notare? Beh, sicuramente La barba di Capitano America E beh, per quale motivo mi sorprende così tanto? Beh, il motivo è semplice Perché nel trailer e nel tv spot Dedicati ad Avengers Endgame Abbiamo visto un Capitano America Un po' sbarbutello E questo ci permette di aprire Che la clip abbiamo visto nel film Captain Marvel Beh, sarà posizionata Io direi nei primi dieci minuti di film E questo ci permette di rispondere ad una teoria Che c'era dove sta trasmesso il tv spot di Avengers Endgame E riguarda queste immagini Praticamente possiamo notare Uno spazietto alquanto misterioso Ebbene ragazzi La domanda è Ma chi ci sarà? Ma chi non ci sarà? Chi sarà? Captain Marvel? Hulk? Boh, non si sa Bene ragazzi Io vi posso rispondere a questa teoria Beh, il personaggio in questione è Captain Marvel Sicuramente ragazzi Sono sicuro al 100% Però ragazzi Guardando questa immagine Se qua ci sono gli Avengers E in quello spazietto alquanto misterioso Si trovasse la Capitana Cosa stanno osservando? Beh ragazzi Posso rispondere anche a questa teoria Sicuramente stanno osservando la navicella Dove sono a bordo Tony Stark E Nebula Che stanno atterrando nel bel giardinetto Del quartier generale Degli Avengers E questo come faccio a dirlo? Beh perché c'è Tony Stark Che è un fenomeno Nebula e mezzo robot Quindi con qualche meccanismo Di qua di là Riusciranno senza problemi A far rifunzionare la navicella Degli ex guardiani della galassia Beh e un'altra cosa Non ho potuto non notare In questa clip Sicuramente è stato Il nuovo costume Di Captain Marvel Madonna ragazzi Quanto è figo Lo adoro Una cosa spettacolare Veramente figo Bellissimo Bello La seconda scena Dopo i titoli di coda Ragazzoni Invece è molto più leggera E chiude una sottotrama Del film Che vede come il protagonista Il gatto Ghost Madonna Quanto è micidiale Quel gatto E poi si scopre Non è un gatto normale Ma è un alieno Un flerken Che come apri bocca Li spunta nei tentavoli E mangia Di su Di sotto Destra Sinistra Nosa Allucinante ragazzi Mannaggia Oh Po Micidiale Comunque Ci troviamo nell'ufficio Di Nick Fury E vediamo Il gatto E cerca di vomitare Li tenti di vomitare Ma non ci riesce Passano tipo 10 minuti E voilà Riesce a vomitare qualcosa Vomita Il Tesseract Allora Io direi un attimo Di parlare Del Tesseract Che sappiamo benissimo E cosa sia In parole povere Il Tesseract È il contenitore Della scemma Dell'infinito Dello spazio E fin lì Io direi Che ci siamo Ma io farei un salto Nel passato Nel 1945 Durante la seconda guerra mondiale Dove è stata ambientata Il film Captain America Il primo vendicatore E allora ragazzi Facciamo un riassuntino Molto veloce Svelto 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 Allora Teschio Rosso scopre Dove si trova Il Tesseract Utilizza il Tesseract Per costruire delle armi Super potentissime A un certo punto Scappa Teschio Rosso Perché non vuole Li faccia nel culo E prende il Tesseract Per far funzionare Questo mega aereo Che è gigantesco Comunque arriva Captain America Ha una battaglietta Contro Teschio Rosso Teschio Rosso Fa il biscolo Prende il Tesseract Ma lui scompare Va a subormire Mentre il Tesseract Cade nell'oceano E poi sappiamo Che fin ha fatto Captain America Comunque Howard Stark Va a cercare Captain America Ma invece di trovare Captain America Trova il Tesseract Se lo prende Se lo porta a casa E lì finisce la storia Adesso siamo nel 1990 La storia di Captain Marvel Quanto è bella Quanto è forte E troviamo il Tesseract Dove? Su una navicella spaziale Dove si sono rifugiati Gli Skrull Quindi ma Cioè Manca qualcosa Come ha fatto Il Tesseract Dalla terra Da arrivare Sulla navicella spaziale E dalla navicella spaziale Da tornare sulla terra Allora Molto semplice ragazzi Vi rispondo io A questa domanda Praticamente Il progetto Della navicella Super Sony A velocità Della luce E qua di là Era un progetto Shield Progettato dalla Lawson Captain Marvel Quindi ragazzi Banalmente Captain Marvel Sapendo che il Tesseract Fosse in mano Allo Shield Che fa? Prende il Tesseract In prestito Lo prende E lo mette Nella navicella Dove si sono rifugiati Gli Skrull Beh Io direi Molto semplice Direi che ci siamo No? E poi vabbè Sappiamo che cosa succede Arriva il Flerken Il gatto Goose Si mangia il Tesseract Poi Nick Fury Con tutta la banda Degli Skrull Eccetera eccetera Tornano sulla terra Basta vedere la scena Basta vedere la scena Dopo i tiri di coda E voilà Ecco come ha fatto Il Tesseract Poi ad arrivare Nelle mani Di Nick Fury E Avengers Eccetera 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 Easy 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 Bene ragazzi Io direi che abbiamo Un close Da analizzare Le due scene Post credit Del film Captain Marvel Che ho apprezzato Come ho apprezzato Il film Che vi consiglio Andare a vedere Veramente Ganzo Bellino Figo Bellino E niente ragazzuoli Direi che Se il video vi è piaciuto Di spolliciare Iscrivervi al canale Onde vi dite il video Eccetera eccetera E dopo fatte queste cose Ragazzuoli Ci si vede Con un prossimo video Ciaone Eccetera Eccetera